Contempla dall'alto centinaia di bustine di plastica riposte con ordine, tutte uguali viste da sopra, ma tutte diverse per il loro contenuto accuratamente specificato all'esterno. Le fa arrivare a porta da un fornitore di materiale per laboratori, sono in plastica resistente e attenuta stagna. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!